Il salto in alto, per decenni affrontato allo stesso modo, come le felimentari richieste di federalismo supplicate a Roma. Il salto è cambiato all'improvviso per sempre, quando un uomo ha osato capovolgere tutto. Così, anche per l'indipendenza, basta esercitarla con un referendum veneto. Dichiaralo anche tu con noi, scegli l'indipendenza veneta. Scegli l'indipendenza veneta.